prima del mitico maurilio de zolt c'era stato lui marcello de dorigo il fondista che sfidò i nordici dice il corriere delle alpi di oggi è morto è morto marcello de dorigo grande campione del fondo dello sci nordico il grande campione dice l'occhiello di laste di rocca pietro si è spento a 87 anni all'ospedale di belluno dopo due olimpiadi la sua carriera si interruppe nel 1964 per un congelamento in svezia un congelamento una vicenda incredibile che anche in quell'occasione mostrò la forza fisica la determinazione di questa persona sulla destra la pagina del corriere delle alpi c'è anche la copertina di quei tempi della domenica del corriere che era stata proprio dedicata a lui di corsa sugli sci stretti in un paesaggio nordico con il numero 80 sul pettorale il l'articolo sul corriere delle alpi è a firma di lario tancon trovate la notizia diffusamente commentata anche a cura di claudio fontanive sul gazzettino di belluno ovviamente e leggiamo qualcosa di questo articolo di di lario che salutiamo anche a 87 anni ieri è morto marcello de dorigo è finita all'ospedale di belluno dove era ricoverato da qualche settimana l'avventura terrena di un campione straordinario e di un uomo semplice nato a rocca pietro il 2 giugno del 1937 era di laste al momento della nascita l'allevatrice gli pronosticò vita breve a causa dei pochi battiti invece marcello de dorigo divenne un formidabile campione dello sci di fondo capace di vincere otto titoli italiani tra juniores e seniors di partecipare a due olimpiadi e a due mondiali dopo essersi messo in luce nelle categorie giovanili ed essere entrato nel giro della nazionale nel 57 a inizio anni 60 de dorigo era uno dei talenti più interessanti dello sci di fondo internazionale nel 63 dice la sua stella sboccia in quello che pare essere l'avvio di una carriera strepitosa con la tuta delle fiamme gialle con quella azzurra della nazionale ecco salto qualche parte di questo di questo articolo per andare per andare all'ultimo paragrafo poi come al solito vi raccomando di acquistare questi giornali che vi presentiamo in rassegna stampa alla fine della carriera a soli 27 anni la vicenda di volo oden è stata fatta rivivere qualche anno fa in occasione degli 80 anni di marcello de dorigo dalla regista lucia zannettin che gli ha dedicato il film le stelle di cieli cieli diminutivo di marcello dopo la carriera agonistica de dorigo aveva dato avvio alla carriera imprenditoriale costruendo insieme al fratello valerio che è scomparso nel 17 gli impianti di risalita a forcella aurine era lui era loro proprio la località nella quale aveva iniziato la carriera sugli sci da qualche anno era ospite della casa di riposo che cosa era successo a volo dalen marcello de dorigo dice l'articolo si trovava nella località svedese in ritiro con la nazionale era uscito in allenamento ma poi era rientrato perché guanti e berretto scelti erano troppo leggeri per i meno 15 di quella mattina ripartito si era levata una nebbia talmente fitta da fargli perdere l'orientamento de dorigo prendeva una pista aveva preso una pista che lo ha portato tra i boschi anziché verso l'albergo la temperatura aveva raggiunto i meno 22 e lui vagava scorte le luci di volode ne presa la via del ritorno una caduta in discesa la rottura di uno dei degli sci lo costringevano a proseguire a piedi e lui avanti alle 3 di notte sfinito decide di fermarsi di togliersi scarpe e calzini per massaggiarsi i piedi cercare di riattivare la circolazione è ripartito si è trascinato i soccorsi lo hanno trovato alle 7 di mattina era salvo ma quasi 24 ore di gelo gli provocarono l'amputazione di ben 6 dita dei piedi poteva essere morto chiaramente insomma la sua determinazione la sua forza lo portarono a continuare a resistere a trovare un modo insomma per andare avanti però chiaramente questo gli impedì di proseguire la carriera finita a soli 27 anni su questo vi dicevo c'è anche spazio sul gazzettino che ha come titolone di apertura fonzaso come longarone nel 63 il progetto della diga del vanoio contestato al primo incontro con i cittadini a canal sanbovo sembra di rivivere il vaionta bortoluzzi della provincia sono soltanto perdite di tempo questi questi incontri e maccagnan di lamont assurdo si tocca lavorare per dire no e sapete l'impressione da vionta proprio questa non che ci siano molti pareri contrari la contrarietà del grosso della gente ci sono imprenditori invece che vogliono andare avanti tutti i costi e la legge gli appoggi le relazioni le lobby sembra che al di là di tante proteste al di là delle giuste propostità della gente la cosa vada avanti vada avanti come quella volta del vaionta noi bellunesi siamo sensibili al tema delle dighe fonzaso allo sbocco della valle esattamente come longarone 61 anni fa a te sono le simulazioni nel progetto a dire che la mon pagherebbe che scusate che fonzaso pagherebbe conseguenze gravi insieme ad altri 15 comuni se la diga poi dovesse in qualche modo fallire hanno fatto venire i brividi ieri sera le parole del sindaco di fonzaso cristian pasa intervenuto nell'incontro di discussione che si è tenuto nel teatro parrocchiale di canal san bovo in trentino nelle carte la simulazione del crollo della diga emerge che dal vanoio l'onda arriverebbe al corlo in 40 minuti provocando allegamenti significativi proprio a fonzaso per la provincia di belluno il consigliere delegato massimo bortoluzzi ha detto sembra di rivivere il vaionta vi dicevo che la notizia di di de dorigo è in prima anche sul gazzettino e poi viene approfondita da dario fontanile scusate forse prima detto claudio da dario fontanile in un bel paginone che gli viene dedicato a pagina 2 morto il fondista azzurro che sfidò i giganti del nord qui mi corre anche rivolgere un saluto personale ai familiari di di de dorigo alle diverse persone legate da parentela insomma che che conosco insomma a cui consentitemi personalmente anche rivolgo un saluto allora ritornando ritornando al corriere come vi dicevo sul corriere c'è la notizia di un altro lutto purtroppo poi veniamo qui alla marmolada un attimo ed è ed è questo muore tre giorni dopo la caduta il lattoniere pais che non ce l'ha fatta purtroppo il 51enne di auronzo era precipitato dal tetto di una casa in via venezia indagini per omicidio colposo allora anche qui vediamo qualche notizia dall'articolo che poi vi invito a leggere per intero acquistando in questo caso il corriere delle alpi prima vi avevo fatto vedere le pagine del gazzettino muore a tre giorni dalla caduta dal tetto felice pais non ce l'ha fatta il decesso del 51enne lattoniere di auronzo è stato dichiarato ieri pomeriggio verso le 17 l'uomo era ricoverato nella rianimazione dell'ospedale san martino di belluno in gravissime condizioni dopo che venerdì scorso era precipitato per una decina di metri in un cantiere in via venezia un politrauma molto serio erano le 9 30 quando si era verificato l'infortunio sul lavoro ormai da una settimana l'impresa stava impiegando i suoi dipendenti nella ristrutturazione di un'abitazione privata il personale stava rifacendo il tetto un cantiere allestito in sicurezza la copertura era stata recintata dal classico parapetto e da quanto necessario per garantire l'incolumità dei lavoratori al momento della caduta c'erano anche il titolare e quattro dipendenti secondo la prima ricostruzione dello spisa al di belluno che ha portato avanti gli accertamenti il letale infortunio è stata una diretta conseguenza di un cedimento improvvisamente una delle tavole della vecchia struttura ceduto sotto il peso del lavoratore che si è sbilanciato e scivolato verso l'esterno fino a precipitare dopo aver sfondato una recinzione che doveva trattenerlo invece non ha resistito non è riuscita a frenare la sua caduta questa sembra essere per ora la la ricostruzione appunto come si diceva in questi casi è praticamente inevitabile fare un'indagine anche per vedere se non ci sia stata delle colpe non un omicidio colposo nella pagina e anche qui insomma purtroppo sono questa notizia un giovane così santo cielo 51 anni anche da qui esprimiamo la condoglianza del nostro giornale ai familiari agli amici nella pagina precedente c'è un titolo sulla pista da bob ci sono varie immagini anche sul gazzettino sulla sulla colata ieri è stata completata la curva sento gialli sui tempi del programma impegnati 200 operai e saldini dice la federazione la scaletta è rispettata ma le indicazioni del progetto light non coincidono vabbè insomma giustamente si tiene d'occhio quello che sta succedendo come procedono i lavori è giusto che sia così è giusto che ci preoccupiamo del procedere di un investimento che è importantissimo tra le opere delle olimpiadi insomma che sarà un lascito importantissimo è importante che l'opera venga realizzata in tempo a questo punto che non stiamo spendendo i soldi per niente ecco c'è stata la verifica di lega ambiente la fotografia è drammatica si vede la marmolada siamo pagina 26 del corriere delle alpi cari amici poi di radio piave quando avete finito di ascoltare questa rassegna se volete potete vederla anche in forma di video sui nostri social tutti quanti e cioè sui canali che abbiamo tra youtube facebook instagram link di insieme dappertutto è stata seguendo appunto la rassegna stampa di radio piave in blu di oggi che martedì 10 settembre marmolada dei profondi di lega ambiente nel 2040 dicono gli esperti dell'associazione che sono state a vedere lo stato del ghiacciaio il ghiacciaio non ci sarà più pensate che in cinque anni negli ultimi cinque anni questo fa veramente impressione è sparita un'area equivalente a 98 campi da calcio la cosa incredibile insomma sono 170 e credo che in marmolada in questo momento non ce ne siano rimasti molti di più di ettari di ghiacciaio per questo se si va avanti con questo ritmo siamo nel 2024 questa previsione che nel 40 il ghiacciaio non ci sarà più potrebbe anche se le stime su quello che è successo negli anni scorsi sono corrette potrebbero addirittura risultare troppo ottimistiche perché il ghiacciaio potrebbe sparire ancora prima si sa che è si sa siamo testimoni tutti di un di un'accelerazione spaventosa di questi effetti climatici che portano al scioglimento di un'area ghiacciata così vasta e così profonda lo di ghiaccio qui è profondo decine decine di metri eppure appunto il ghiaccio se ne sta andando con una velocità incredibile perché si ricorda francesco dal masqui facendo l'articolo sul comunicato di lega ambiente sembra che il ghiacciaio della marmorada risulta che stia perdendo sette centimetri di spessore ogni giorno ogni giorno sette centimetri pensate cosa succede in un'estate non è l'unico ghiacciaio che sta male ovviamente gli acciai sotto i 3.500 metri sono tutti in sofferenza perché perché molto spesso tanti giorni insomma la temperatura media porta lo zero termico più in alto di così molto più in alto di così ormai siamo sulla marmolada siamo mi pare a più di due mesi in un anno sopra lo zero termico e quindi lì si scioglie si scioglie perdiamo la marmolada non è tanto per la perdita della marmolada che dispiace un evento naturale ma è che la marmolada è veramente lo specchio di quello che sta succedendo al nostro clima e ci sta ricordando in modo drammatico che dobbiamo fare qualcosa e dobbiamo farlo prestissimo nei comportamenti di tutti per cercare di arginare un fenomeno che allora si annunciano i funerali alle 15 nell'arci pretale di mel per l'ultimo saluto a serena dal piva di cui abbiamo già dato la notizia brutto male se l'è portata via giovanissima 35 anni ieri ha avuto molto successo molti lettori la notizia che vi abbiamo dato che leggete la pagina 24 del corriere del furgone di società nuova il furgone che aveva preso fuoco nell'officina dove era per una riparazione era il furgone di società nuova adesso quell'associazione importantissima quella cooperativa mi pare che sia che aiuta le persone con difficoltà non può più spostare le persone era della cooperativa società nuova il mezzo distrutto nel rovo dell'officina talo ora i servizi di trasporto sono a rischio serve con urgenza un mezzo nuovo dicono aiutateci a ricomprarlo e credo che così insomma l'appello a metterci la mano sul sul cuore sia sia espresso in modo in modo chiaro no andiamo a vedere che cosa c'è sulla prima del del corriere delle alpi volevo farvi vedere che l'apertura della sezione locale di belluno beh insomma ci sono anche fotografie uno spazio grande anche sul gazzettino sull'avvio della demolizione dell'iti l'edificio sarà riqualificato fa impressione però vedere che hanno buttato tutto in piazza piloni insomma in pieno centro ecco di belluno belluno galleria comelico prima notte di lavori ecco la mappa delle principali criticità che già sono emerse non dalla prima notte di lavori la prima chiusura si vede un po chi ne ha sofferto il tunnel è rimasto chiuso dalle 22 alle 6 sarà così per più di due anni 30 pass straordinari sono stati concessi sono in media 100 gli utenti che lo attraversano che hanno bisogno di usarlo in quelle ore vi volevo farvi così attirare l'attenzione su la pagina che è dedicata si potrebbe perfino fare di più al rapporto che mario draghi ha consegnato all'europa era stato chiesto dall'unione europea i tedeschi reagiscono con freddezza perché sono sempre rigorosi sulle cifre mario draghi dice che c'è bisogno di fare debito pubblico europeo perché abbiamo davanti delle sfide economiche importantissime l'europa dice deve cambiare o sarà agonia e per cambiare bisogno di mettere in campo degli investimenti colossali il rapporto di draghi mostra che il divario con gli stati uniti è diventato enorme enorme l'europa credeva di potersi fidare di dipendere anche energicamente da nazioni stati amici come l'unione sovietica ha sbagliato tutto abbiamo siamo in carenza anche di un sistema di difesa ma quello che più preoccupa è la nostra mancata produttività siamo veramente indietro e usiamo pochissimo la tecnologia usiamo pochissimo l'intelligenza artificiale le nostre aziende non hanno capito che l'america è più avanti perché utilizza le nuove tecnologie e questi sono temoni che interpellano anche tutti noi nel nostro quotidiano del nostro lavoro perché quello che viene avanti è qualcosa di importante se noi non ce ne rendiamo conto restiamo indietro restiamo indietro l'europa a queste condizioni non sarà più in grado di garantire di essere quel luogo di pace di assistenza per cui è nata la copertina del corriere delle alpi mette in prima pagina la foto della curva sento della pista da bob dove è stata fatta la gettata di cemento spritz allora con questo chiudo qui grazie per l'attenzione buon martedì 10 settembre da luigi bulleni ciao a tutti